Al danno la beffa, i soldi sono arrivati e non vengono elargiti e su tutte le furie Mario Lacanfora, presidente del Comitato Tutela del Lavoro ad Ariano Irpino. Da una settimana la comunità montana dell'Ufita è nelle condizioni di poter pagare gli operai idraulico-forestali, ma ciò inspiegabilmente non avviene. Parliamo di 1.800.000 euro, una somma consistente stanziata dalla Regione Campania per mensilità relative al periodo 2012-2013. Una vicenda amara, quella degli operai forestali. Chi non ricorda la drammatica protesta nel Natale scorso sul tetto della sede del lente montano di Via Cardito? Cortei, Sittin, oltre ad altre forme di protesta estrema. Oggi come se non bastasse un nuovo giallo. Noi stiamo qua stamattina perché è la cosa dell'assurdo, del paradossale. Abbiamo aspettato due anni per avere gli stipendi. Adesso sono otto giorni che stanno i fondi sopra in banca, diciamo la tesoreria dell'ente, e non ci vengono corrisposte le mensilità arretrate. Questa è una cosa inspiegabile praticamente. Abbiamo chiamato il Presidente, vogliamo parlare con gli uffici. Non ci viene data una spiegazione plausibile. Non capiamo per quale motivo non ci vengono dati questi soldi. Cosa pensate? Sinceramente non lo sappiamo. Se sono bloccati in banca, se hanno problemi di conteggio, se ci sono altri intoppi burocratici. Non lo sappiamo. La cosa drammatica è questa, che nemmeno una spiegazione per vedere qual è il motivo. Non lo so. Questa mattina abbiamo chiesto un incontro con l'amministrazione, sono lati tanti. Il Presidente ha detto che non può venire e non sappiamo nemmeno a chi rivolgerci. Adesso a questo punto non ci resta che aspettare un altro po' e poi andare sopra i carabinieri e fare la denuncia, perché non accettiamo assolutamente che i fondi destinati agli stipendi degli operai forestali vengono gestiti diversamente, perché già circolano voci che devono essere pagati altri operai, altri impiegati, sempre i soldi impiegati, le ditte, i fornitori e via dicendo. Questi sono soldi a destinazione vincolate per gli stipendi degli operai forestali. L'ha detto l'assessore Nunes, l'ha detto Caldoro, l'hanno detto i sindacati, l'hanno detto tutti quanti. Sono soldi a saldo per le annualità 2012 e 2013. Significa che se non vengono pagati gli stipendi, noi non abbiamo più possibilità di prendere questi stipendi. Qua ci sta gente che avanza 28 mensilità di arretrate, non è una cifra. Ci sta gente che si è impiccata, gente che è disperata, che non può mettere il piatto a tavola e questi hanno i soldi. Questa è la comunità montana che ha avuto il primo accredito, l'unica comunità montana che ha avuto il primo finanziamento e l'ultima a pagare. Già le altre stanno pagando, invece questa ancora non ha dato un mese. Al limite cominciassero ad anticipare delle mensilità e poi fanno il saldo, poi fanno i conteggi. Nemmeno questo ci viene dato, proprio il disprezzo nei confronti delle famiglie bisognose, disperate, che stanno morendo di fame. Proprio questa è la classe politica che non merita nemmeno di rappresentare il popolo italiano. Questa è una vergogna, una vergogna che anche la magistratura deve intervenire. Non è possibile che ci sono soldi, fondi accreditate alle banche e noi disperati che veniamo qua sopra questa mattina a pretendere i nostri diritti.